Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questa nuova serie sul gioco di Resident Evil 2 Il remake per quanto riguarda l'edizione uscita molti anni fa per PlayStation 1 per, in questo caso, PS4 Adesso siamo nel, diciamo, menu principale Sto impostando un po' le varie configurazioni, le varie opzioni, ovviamente Regola l'alluminosità affinché l'immagine sulla sinistra sia appena visibile Ok, va bene, sì, connettiamoci, ok Ci vediamo direttamente appena, ok Qui abbiamo ottenuto sia i costumi, diversi costumi perché questa è la deluxe edition direttamente Abbiamo sia i vari costumi sia per Leon che per Claire Ma anche l'effetto, per quanto riguarda lo schermo, applicare un filtro speciale per lo schermo Ci sono diversi costumi, ci sono anche delle armi Posso anche cambiare la musica di gioco e effetti sonori Posso letteralmente scegliere sia quella originale del vecchio gioco per PlayStation 1 Oppure una versione rifatta, diciamo, per la versione rimasterizzata Ok, adesso qui siamo nel menu principale Noi possiamo scegliere o la versione di Leon O la storia di Claire Qui possiamo andare a vedere i costumi, le opzioni Ora vado a impostare un po' le opzioni Come costumi, ve li faccio vedere, utilizzerò quelli là, normali Perché appunto questi avranno i loro vestiti al treno editor nella storia Ok, utilizziamo... Questi sono i costumi sbloccati Ma sinceramente non mi fanno impazzire Quindi utilizzerò quelli là, normali Per quanto riguarda queste opzioni La ricarica automatica la lasciamo Poi c'è la mira Vabbè... L'oscillazione la lasciamo anche Potremmo personalizzare anche il colore del mirino Per quanto riguarda sia il reticolo che il puntatore laser Ma al momento la lasciamo così Ok, ok... L'audio lo lasciamo con la del remake Poi comunque faremo anche diversi altri video Per quanto riguarda prove e anche live su questo gioco Ok, possiamo iniziare Inizierò ovviamente con la storia più conosciuta Per quanto riguarda questo gioco Ovvero quella di Leon Cosa ci dice? Non avendo ricevuto più notizie dalla centrale di polizia Leon si dirige a Recon City Per fare luce sulla situazione Totalmente ignaro dell'incubo a cui sta andando incontro Adesso Dobbiamo scegliere la difficoltà Io avrei scelto quella con il salvataggio Grazie al getto d'inchiostro Grazie al nastro dell'inchiostro Ma purtroppo ho paura Che... Per questi nemici più forti Quindi... Perché ho già visto per quanto riguarda queste modalità come erano Quindi letteralmente Per salvare è necessario il nastro d'inchiostro Salvataggio automatici disattivati E nemici più forti Quindi adesso Diciamo sceglierò la modalità standard Ma comunque faremo anche quella estrema Non è un problema Andiamo con quella standard Vediamo adesso Cosa Cosa ci farà vedere Da quello che so Ci saranno molte più Scene E molte più Parti giocabili Soprattutto anche all'inizio Cosa che nessuno si aspetterebbe Cosa che nessuno si aspetterebbe Cosa che grafica No... Ok... Ok, non diamo di fiori qui, certo? Sì, ma tu hai quello, certo? Se tu freddi un po' di queste cose, ti sembra che tu sia piaciuto di me. Mi sembra di dare qualcuno. Oh, come va, è proprio bene. Probabilmente stava parlando di zombie, eh? Quindi... E che forse ancora eravamo all'inizio quindi ancora non si sapeva... C'è qualcuno? Oh, shit! L'hai proprio presa al centro, proprio. Poi questo è sano. Beh, per stare lì non credo che era tanto normale questa... questa ragazza. Era ferma in strada. E appunto, appunto, si sta rialzando. Ok, va bene. Comunque... Già si è visto che... certo non le ha chiesto le informazioni per andare in un posto. Questo è il Leon, ragazzi, eh? un Leon molto più giovane rispetto... a quello che abbiamo visto nel... non c'è nessuno. Nel 4 e nel... nel 6. Beh, è notte anche... Beh, però se c'è scritto che siete aperti, ok? Sangue a terra. Beh, io non c'entrerei se fossi in terra, ma comunque... lo sappiamo che... esplora... esplora l'area. Mi guardo intorno così. Si corre come? Premendo... L3. Ok. Vabbè. Perfetto. Allora. Apriamo e vediamo... chi c'è dentro. Allora? Allora? C'è nessuno qui? C'è, avete fatto vedere... lo scaffale che era... che era normale, però a terra non l'avete fatto vedere. Ok. Dietro alla cassa è tutto normale. Si sentono lamenti. Eccolo. Eh, non credo. Questo è stato morso. Venga duro, torno subito. Ok. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok. E questo è lo zombie... più famoso che si è visto. Ok. Ok. Dovrei imparare. Beh, i colpi in testa dovrebbero farti più male, no? Ok. Non dirmi che si rialza, eh. Non è uscito sangue, eh. Però... Prendiamo questa chiave perché mi sembra che sia appunto... chiave. Ok. Ok. Apriamo l'inventario col triangolo. Abbiamo la Matilda. Una pistola con strutture in polimeri da 9 mm a 12 colpi. Pistola di ordinanza non standard, poco pratica per i civili. Ok. È una chiave molto consumata. Abbiamo trovato una chiave molto consumata. Ok. 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 Lui sta qui. Dov'è? No. È di nuovo lui. Padre. Questo non può essere. Ok. Beh, adesso c'è... A meno che tu non possa rigenerarti, non credo che... Non c'è niente. Ok. Possiamo ritornare. Io credo che quello che mi ha indicato una strada si rialzi, eh. Ehi, cosa stai facendo? Mi ha bloccato... Mi ha chiuso qua dentro? Mi ha chiuso qua dentro? Mi ha chiuso qua dentro? Sono lo stronzo. Ok. Le strade non è che sono... Eccolo, mi fa. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare una porta o risolvo l'eligmo, selezionalo e scegli USA. Usiamo la chiale. Ok. Dai. ma quanti siete quanti siete bastardo non so se vabbè tu sei più ok cervello finito finito le munizioni via via e poi e tagli in casa eeeh corre allora ho finito le munizioni eh ma quanti siete quanti siete corri con Claire cosa ci fai tu qua Claire non hai corti adesso tu dimmi dove avevi l'ultimo proiettile ok ok lei è Claire Claire è che è un passo eeeh eeeh questa è la classica scena che c'era per presti su uno dove lei si abbassa e lui spara in testa all'un solo e spero che avranno alcune risposte alla stazione polis wait, sei un copp? si, Leon Kennedy e sei? Claire Claire Redfield viviamo qui? no, sono cercando mio fratello è un coppia anche beh è una buona cosa che abbiamo trovato l'altro non so cosa aspettare ancora a casa dell'ombrella corporation ok, quindi abbiamo finito diciamo l'intro questa è appunto l'introduzione per quanto riguarda Resident Evil 2 la centrale di polizia so che in questa versione ci saranno anche dei DLC che sono stati annunciati proprio oggi oggi in day one del gioco quindi 25 gennaio però credo che ci saranno anche dei contenuti aggiuntivi per quanto riguarda questo gioco che sicuramente andrò a giocare poi so che ci saranno anche delle versioni del gioco tipo tipo la modalità del TOF una modalità ONG poi questa è andrò inizia è una grande città o deve essere no, non siete da soli non siete da soli sembra che stiamo andando da qui stanno 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 cenando dai non disturbarli dai vengo correre mi siete fermati in mezzo alla strada cioè non non pensate di di pretendere molto questo è quello di prima quello di prima che è stato morto oddio e vanni è grave get out now I can't I can't Hold on come qua come qua il cavolo è e così ciao adesso mega incendio adesso wow Oh no. Claire? Claire, sei ok? Sì, sono ok! Che cosa tu? Non posso rimanere qui, non è sicuro! Andiamo in avanti! Vi troverò nella stazione! Ci sarò! Questa è senza controllo. Allora, dove dobbiamo andare? Presumo... C'è una luce gigantesca. Allora, qui è dove iniziava il gioco nell'edizione per PlayStation 1. Questo che è? È sempre un zombie, questo! Ok, 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 scusa, scusa, scusa. Allora, qui è dove iniziava il gioco per PlayStation 1. C***o! Si sono trasformati più. Si sono trasformati più. Ok. Oddio, ma che? Spuntano dappertutto queste cose. Ok. Andiamo da questa parte, non so... Ah, qui è. La stazione. Ok, qui c'è la stazione di comizia. Quindi entriamo direttamente nella stazione. Questo sarà un walkthrough completo. Farò pochissimi tagli. Anzi, cercherò di non farne assolutamente perché voglio portare tutta la mia esperienza di gioco sul canale. Vi ricordo che se vi piace quello che vedete lasciate un like e se volete anche un commento. Quindi siamo nella stazione di polizia. La famosissima stazione di polizia. La RPD. Record Police Department. Qui di solito c'erano delle erbe vermi fuori. Entriamo direttamente e vediamo. Ok, buongiorno. Esplora l'altro principale. Ok. Abbiamo ottenuto un trofeo. La città dei morti viventi. Quindi... Già una cosa in più è che ci sono anche trofei. Nell'edizione per PlayStation 4. Spray medico. Famosissimo spray medico per curare le ferite. Adesso... se subisci dei danni il tracciato dei due parametri vitali in basso a sinistra dello schermo passerà da normale d'attenzione e infine a pericolo. Quando viene visualizzato pericolo curati in fretta con una pianta o con lo spray medico. Prima che sia troppo tardi. una chiave molto consumata. Adesso questa potremmo anche scartarla. Ma al momento dire di no. Qui mi ricordo che c'è un... Perfetto, c'è il... Proiettili mettiamo qua. Ok, perfetto. Proiettili per la pistola. Si ricarica con il quadrato. Ok, va bene. Qui si può salvare. Ok. Sono state aggiunte delle armi speciali. Vi ricordo che questa è la Deluxe Edition. Quindi io andrò a utilizzare queste armi speciali. Adesso voglio vedere qual è la migliore. Modificata... Allora, questa è la Samurai Edge modello Chris. Modello Jill e modello Albert. Modificata con un carrello in acciaio e con un grilletto in argento. Vanda una facilità d'uso ed è molto precisa. Modificata con un fermo del carrello più piccolo per facilitare l'estrazione della fondina. Non mi interessa. Progettata dallo stesso Albert Wesker. Quest'arma vanda delle prestazioni incredibili. Non c'è modo per vederla. Io sono in distrisso tra questa e questa. Intanto questa depositiamola, sì. Non c'è modo per esaminarla, vediamo. Allora, questa è quella di Albert Wesker. Ok. Vanda delle prestazioni incredibili. Oppure... Questa qua... Sono molto simili, eh. Alla fine non cambia... Non cambia... Chissà che cosa. Vanda una facilità d'uso ed è molto precisa. No, io voglio quella di Albert Wesker. Quindi... Questa la depositiamo, questa la depositiamo. Io però vorrei adesso... Non posso togliere... Togliere le munizioni. Rimuovi. No. Non si possono togliere le munizioni una volta... Ok. Ah, vabbè, posso metterli... Ok, 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 ok. C'ho sia l'arma... Ok, 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 ok. Come Resident Evil 7, letteralmente. Posso cambiare l'arma così. Ok. Vediamo adesso... Come è combinata la situazione in questa... Centrale. Di polizia. Non bene. Qualcuno c'è. Ma ci sono anche... Quegli altri. Quindi da quello che già ha detto lui... Ci dovrebbero essere già altri due. Oltre lui. David Martin e questo che abbiamo appena visto. Ok. Va bene. Vabbè, questo credo che non... Vabbè, salviamo, ma... Tanto il salvataggio è automatico, quindi non è... Non ci serve molto, eh. Ok. Allora, so che da qua non si può entrare. Perché ovviamente... C'è un nastro che non si può scollare. Qui, come vedete, le nuove... Le nuove... Diciamo, porte che sono chiuse con le... Le chiavi diverse. Letteralmente pic, quadri, fiori e cuori... Sono con il simbolo, proprio come doveva essere nel primo, sul simbolo della chiave che serve, nella porta. Qui c'è un enigma che al momento non posso, non so risolvere. E... Basta. Non mi sembra che ci sia niente. Forse, quando guardo là sotto un po', e andiamo direttamente a trovare quel tizio. Forse c'è un oggetto là sotto. Qui un'altra porta con la chiave. Sì, perfetto, ci sono le munizioni. Ok, stavolta però le combiniamo con... No? Ah, ok, sì, posso farlo. Sì, 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 sì. Ancora però... Muovi, confermo o chiudi? Non posso togliere munizioni. Ok, vabbè. Ok, quindi andiamo là sotto. Dove c'è appunto la stanza. Qui non credo ci sia nulla al momento. Qui solo dei... il passaggio segreto alla fine. Da quello che mi ricordo nella versione per PlayStation 1. Ok. Andiamo da questa parte. Cosa ci dice? Il tipo. Ok. 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 E si ricomincia con... Mi serve un possibile, come al solito. Allora, io ci tengo ad esplorare, se ce la faccio, tutte le stanze ovviamente. Ok. Ok. Questa è la classica... La classica ambientazione di Resident Evil. Che... Questa è la stanza del presidente, quello che mi ricordo. Perfetto. Altre munizioni. Perfetto. Il caricatore è? 15. Ah, vabbè. È verde. È tornato verde, quindi... Presumo sia 15 al momento, eh. E c'è la dolce. Ok. Tempo che... Ok. Ok. Vai. Ok. 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 Bagno delle donne. Sai, io... Bagno... Piena d'acqua. Ok. Spry medico. Ok. Allora, l'esplorazione certe volte aiuta L'esplorazione aiuta molto certe volte Allora, qui c'è un idrante Qui mi serve come una specie di forca Scusatemi, forca No Prima te l'apero, però prima devo esplorare Comunque lì mi serviva una specie di denaglio per rompere la... Mi serve Oh 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 dear oh ciao non poteva essere mai ancora vivo avevo un taccuino in mano vediamo cosa c'è scritto da quello che so forse era una specie di letteralmente c'è una via segreta dietro la dietro la sotto la statua mettendo tre medaglioni si può arrivare a una via di sotto poi si sale per il parcheggio e poi c'è la via di uscita ok non ho capito non ho capito questa terza parte cioè ah ok questa è dove c'è la la stato di sopra leone fiore aquila da quello che penso poi c'è una specie di unicorno dove c'è pesci scorpione pesci scorpione acquario e poi la statua dove c'è sebbene torniamo al latro principale adesso ci saranno due soldi ma vi ricordo che noi abbiamo la peppa no vai stai stai lontano da me e tu torniamo al latro principale dov'era non era qui non era qui non era qua ma questo non era quello che era nella stazione di nell'autogrill questo cambiamo già arma le munizioni volano qui non so non è come il non è come gli altri non è come gli altri sei mi ricordo che ci volevano molti meno gol guarda guarda ok ok sei perfetto ok tu dovresti essere martin o marvin chi hai lì? marvin qui lì io lì sono sicuro che hai fatto quello che hai potuto, Leon lìo 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 chi chi sa che questo ha iniziato? senza un'azoggiamento ma sinceramente tutto che hai bisogno di sapere è che questo place ti farà se non sei Buongiorno. Si, ho dovuto iniziare l'ultima settimana, e ho dovuto chiedere di restare. Mi piacerebbe venire qui più presto. Tu sei ora, Leon, è tutto ciò che importa. Ok, lieutenante, sono pronti. Ho spero che puoi capire un po' di questa stazione. E' l'officio che hai metto prima, Elliot, pensi che questo passaggio di segreti potrebbe fare la scuola. Questa è buona notizia. Possiamo arrivare all'ospedale. No, no, io non sono la priorità qui. Lieutenante, non solo ti lascerò qui. Ti dico un ordine, ragazzo. Tu salvivivi prima. Io avrei venuto con te, ma io solo ti salvo. Ora... Hai bisogno di questo. Non posso prenderlo. Stop. E non ne faccia il mio errore. Se hai visto una delle cose, uniforme o non, tu non esistirai. Tu prendi la scuola, o tu fai. Hai? Sì, signor. Ok. Ma ti hanno morso. Quindi diventerai uno di loro. O no. Coltello da combattimento. Ok, adesso possiamo equipaggiare dalla schermata dell'inventario. questo utilizzo è illimitato. Il rappresentato dalla barra sotto alla narrativa icona. Sfodero con L1, fendente con R2. Quindi bene o male come... Usano per contraattaccare l'alimentario L1 quando viene afferrato da un elico. Può essere inoltre recuperato dai colpi a terra. Ok. Mettiamo qua. Estrai arma secondaria. Quindi così. Ok. E questa è per l'arma normale. Ok. Ragazzi. Io direi che per questo episodio, per questo primo episodio, può essere anche tutto. Vi faccio vedere, quello dolorante. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sul canale. Grazie per la visione e alla prossima.